Il problema è avere una maggiore trasparenza su quello che è la spesa militare, in particolare sul procurement di armamenti, finché ci sia una maggiore consapevolezza e un maggiore controllo democratico. Quanto spenderà l'Italia quest'anno per le spese militari? La legge di bilancio 2017 prevede adesso, sono dati ancora non definitivi, circa 23,4 miliardi di euro per il 2017, tradotto significa una cifra gigantesca, 64 milioni di euro ogni singolo giorno, qui appunto abbiamo conteggiato l'intera spesa militare, c'è un lieve aumento rispetto al 2016, ma quello che più interessa è vedere il trend generale negli ultimi dieci anni, contrariamente a quanto viene affermato nella comunicazione pubblica del Ministero della Difesa, non c'è stato taglio del 20-30% in queste risorse, ma c'è stato un aumento molto forte in termini nominali, circa il 20%, anzi più, e anche in termini reali, quindi contando la perdita di potere d'acquisto, tutti i fattori economici generali non legati a scelte politiche, c'è comunque un aumento ancora consistente, quindi è una cifra enorme per i soli armamenti circa un quarto della spesa, quindi circa 5 miliardi e mezzo per comprare nuove carri armati, nuove aerei, nuove navi e il numero tradotto in giornata, anche qui è abbastanza indicativo, 15 milioni di euro ogni giorno per acquistare nuovi strumenti di guerra. Come è possibile che ci sia questa grande differenza tra quanto dichiara il Ministro Pinotti e quanto invece dichiarate voi con questa ricerca? La cosa curiosa è che non c'è discrepanza tra i dati che dice il Ministro e i nostri, c'è discrepanza tra i dati che dice il Ministro e i dati del Ministero, perché per gli stessi anni appunto, per cui il Ministro Pinotti negli ultimi mesi, ma regolarmente usa per argomentare questa posizione politica, cioè si è tagliato troppo, non si può tagliare più, anzi bisogna investire di più, contrastano con gli stessi dati del suo Ministero, che dimostrano invece un trend di spesa ben diverso, solo stando a quelli del Ministero, che quindi mostrano un aumento di circa l'11%, se poi contiamo tutta la spesa militare l'aumento arriva a superare il 20%, quindi non è in confronto con quello che diciamo noi, che poi non è che ce lo inventiamo noi, ma ripeto, sono tutti dati ufficiali, semplicemente frutto di una somma e di un'analisi molto attenta e accurata di quelli che sono i dati pubblici delle leggi di bilancio, decreti di finanziamento delle emissioni, spese dell'IMS, tutto tratto da documenti ufficiali e nulla di rielaborato in maniera diciamo così tendenziosa, perché il nostro interesse appunto è fornire uno strumento inattaccabile, i numeri sono inattaccabili se non vengono distorti, noi non abbiamo distorti, sono tutta realtà, se ci sono degli errori eventi saremo ben felici di dialogare con la difesa per sistemarli in eccesso o in difetto non importa, l'importante è che ci sia chiarezza.